Poi Coventry adesso è West Ham che può distendersi, si raggruppa, guardate l'Atalanta come va a chiudere con le linee molto serrate. Berramà e c'è anche il raddoppio, fortunato per come gli è arrivato il pallone, di tuffo di testa, fa doppietta in qualche modo però premia forse il miglior giocatore di questa partita.